Dal riuscito convegno su prevenzione educativa, legalità e infiltrazioni criminali sono emerse alcune linee di lavoro che gli organizzatori del convegno offrinano alla città e al dibattito politico. Riprendendo uno spunto introdotto all'inizio del convegno sulle infiltrazioni criminali nel campo agroalimentare, è stato evidenziato l'interesse della criminalità per tutti quei comparti dove circola denaro proveniente dall'Europa e dallo Stato. Il sottosegretario Giampiero Bocci. C'è un tema direi che ritengo decisivo per il futuro, salvaguardare il territorio, salvaguardare il territorio dal rischio infiltrazioni, da presenze di personaggi vicini a organizzazioni criminali che magari cercano di occupare territori che possono essere considerati in qualche modo territori vergini puliti dove c'è una tensione minore di attenzione anche e quindi lì magari impiegare denaro sporco, fare riciclaggio, acquistare attività commerciali e così via. Questo è un rischio che non possiamo correre, che non dobbiamo correre. Così come non dobbiamo correre il rischio di pensare che siamo un'isola felice. Non ci sono più isole felici. le organizzazioni criminali non sono più quelle che abbiamo conosciuto una volta, che investono da Roma in giù. Ormai si investe molto da Roma in su. Abbiamo visto inchieste importanti in Emilia Romagna, in Toscana, in Lombardia. Anche in Umbria abbiamo l'ultima contro alcuni personaggi vicini a Cosche dell'Andrangheta, a Perugia, da parte della magistratura, dei Carabinieri del Rosso. Stanno a dimostrare che nessuno può considerarsi fuori da rischi di questo tipo. Per questo è importante il lavoro delle forze dell'ordine, della magistratura, che è un lavoro di aggressione alle organizzazioni criminali, ma c'è un altro elemento decisivo che è quello della prevenzione. E quello della prevenzione è un compito che spetta principalmente alle istituzioni locali e ai cittadini. La vigilanza e la trasparenza dell'utilizzo dei 785 milioni in agricoltura devono essere massime. Insomma, il neocro procuratore generale di Perugia, dopo aver ricordato il legame con la terra Umbra, ha sottolineato l'utilità di nuovi strumenti a disposizione della magistratura. Fausto Cardella. Le forze dell'ordine fanno più di quello che possono, data la situazione degli organici, le difficoltà che ci sono per tutti. La magistratura fa più di quello che sarebbe immaginabile e possibile. Il problema è un altro. Il problema è che se non c'è il concorso dei cittadini, se la legalità non viene sentita, percepita, difesa da tutti i cittadini, ogni sforzo è vano. Ed è per questo che iniziative come quella di oggi a Città di Castello, come le altre che ho citato prima, che un po' vanno fiorendo dappertutto, sono importanti. Sono forse anche più importanti dell'azione delle forze dell'ordine di quella della magistratura.